Professore, che analisi possiamo fare della vicenda Lambert? È un'analisi molto triste, perché in questo caso è stata interrotta l'alimentazione e l'idratazione a una persona di forte disabilità, di soglia minimale di coscienza, senza che questa persona avesse espressamente richiesto questa interruzione. È un caso molto triste, dove davvero la Francia non è stata affatto esemplare. Alla luce di quanto è accaduto a Lambert, ieri le associazioni cattoliche hanno presentato un documento pubblico che invita il Parlamento italiano a prendere una posizione nei confronti dell'eutanasia prima che la Corte Costituzionale emetta la sua sentenza anticipata il 24 settembre. Che cosa contiene quel documento e perché un documento come questo? È un documento che reclama in modo molto forte e chiaro che in Italia non debba entrare l'eutanasia e quindi invita il Parlamento a prendere posizione, perché se non lo fa il 24 settembre la Corte Costituzionale ha già anticipato in un'ordinanza che introdurrà in Italia una ipotesi di suicidio assistito legittimo che diventerà eutanasia. Questo è molto grave, molto grave soprattutto se il Parlamento nulla fa, perché la Corte Costituzionale ha già detto che questo sarà l'esito del suo giudizio che riguarda il caso Cappato, per essere concreti.